Musica Inaugurato un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità nel quartiere Cep a Pisa. Realizzato in piazza San Ranieri è il secondo impianto cittadino e fornirà gratis acqua sicura ma senza cloro. In un anno sono previsti risparmi per 400.000 euro. Si tratta di un impianto collocato all'interno di una piccola casa dell'acqua che eroga gratuitamente normale acqua di rete, la stessa che arriva nelle nostre case, rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico, grazie ad un sistema di filtraggio a carboni attivi e membrana che priva l'acqua del cloro e la sterilizza in alternativa con raggi ultravioletti. Ma partiamo da un presupposto. I cittadini perché dovrebbero rifornirsi di acqua da un fontanello? Forse perché non si fidano di quella che esce dai rubinetti di casa? A quanto pare è proprio così. Usi l'acqua del rubinetto o no? No, perché c'è il cloro. C'è il cloro e quindi non è buona? No, sinceramente no. Come mai? Perché fino ad ora è sempre stata molto cattiva, sporca, via via nera, quindi mi fido poco. Ora spero che con questo nuovo sistema la cosa sia un po' migliore. Lei si servirà dell'acqua del fontanello? Certamente, se è una cosa che si riscontra, che è buona, che è controllata, perché no? È sempre un risparmio che oggi non guasta. Lei ritiene giusto pagare le bollette dell'acqua, le utenze dell'acqua e poi non poter utilizzare l'acqua del rubinetto perché arriva con le condizioni in cui arriva? No, certamente no. Se abbiamo un costo sarebbe bene anche che fosse sfruttata al meglio. Bevi l'acqua del rubinetto? No. Come mai? Non ti fidi? Specialmente quella dove abito io no. Dove stavo prima sì, però sono più sicura delle bottiglie che trovo al supermercato. Finalmente è questa disposizione qua. La beve? Sì, la bevo. Si fida? Mi fido perché ho anche il filtro. Ah, perché ha il filtro? Se non avesse il filtro la berrebbe? Non lo so, non lo so. Lei verrà a prendere l'acqua del fontanello? Sì, vengo a prenderla. No, no, una pillola del rubinetto no. Come mai? Non la prendo perché prendo sempre quella nisca, la compro, la coppia. Perché non si fida dell'acqua che esce dal rubinetto? Sì. No. Come mai? Prendo quella d'Asciano perché l'ho presa da quando ero nato, stavo nel comune di Magno di San Giuliano. L'acqua d'Asciano mi ha portato fino a 90 vattri anni. Continuo a berla. Io non bevo l'acqua del mio rubinetto di casa perché avendo un depuratore che toglie il calcare temo che l'acqua sia troppo decalcarizzata per cui non posso berla. Ma faccio ormai uso da tantissimi anni di fontanelli analoghi, purtroppo non c'era qua quindi andavo in altre zone della città perché invece boicotto la scelta dell'acqua minerale in bottiglia, sia per un discorso soprattutto di spreco della plastica. Io sì perché ho un filtro nella caraffa. Senza il filtro non la utilizzerebbe? Non la utilizzo. Non si fida dell'acqua del rubinetto? Non è che non mi fidi, è che certe volte viene scura e quindi preferisco non adoperarla, prendevo quella delle bottiglie, però ora ho preso questo filtro e mi trovo benissimo e uso quella. Sì, quella di oggi è un'occasione veramente importante per la nostra città, si tratta del secondo fontanello che apriamo come acqua e seppiaco a Pisa, dopo quello di Pisanova che tra l'altro è uno dei fontanelli più frequentati in assoluto di tutto il nostro territorio, cioè dei 55 comuni che serviamo. Ci aspettiamo che il fontanello del Cep in un quartiere importante, in un quartiere popolare abbia lo stesso successo, sicuramente è un'occasione molto attesa e è un momento molto sentito anche dalla popolazione. Quindi prosegue l'apertura, vediamo di tanti fontanelli nelle varie località, nelle varie città piccole e grandi, i prossimi? Possiamo dare qualche anticipazione? Beh, diciamo, sono in programma alcuni, non vorrei bruciare le tappe, sicuramente sono alcuni sindaci che li stanno aspettando con ansia, uno tra tutti, per esempio, quello di Vientina, per dirne una. Il fatto che se ne aprano così tanti vuol dire che hanno successo, funzionano, la gente si serve dell'acqua dei fontanelli? Sicuramente sì, hanno un successo straordinario che è andato anche al di là delle nostre tese. Tenete presente che i 45 fontanelli di acqua hanno erogato in tutto il 2014 qualcosa come 37 milioni di litri d'acqua. Se vogliamo quantificare in termini di risparmio per le famiglie, nei quabalenti di acqua minerale siamo intorno agli 8 milioni di euro. Un fontanello come quello di Pisanova, per esempio, abbiamo fatto un calcolo che consente un risparmio per le famiglie di quel quartiere intorno ai 400 mila euro. Questa è una delle giustificazioni. L'altra è che sicuramente si tratta di acqua buona, di acqua di qualità, di acqua garantita e i fontanelli sono anche una grande occasione di aggregazione e di incontro per i cittadini. Negli ultimi periodi si sono verificati in alcune zone della Toscana, a Persilia, ad esempio abbiamo visto l'episodio del taglio in provincia di Pisa, si è parlato dell'amianto nell'acqua. Quando la gente sente parlare di questo magari nasce qualche titubanza. Come si può convincere i cittadini a far consumare, a convincere che l'acqua che esce dal rubinetto è buona? L'acqua che esce dal rubinetto è quella più controllata, più garantita e più verificata. Tenete presente che ci sono una grandissima quantità di controlli che vengono fatti sicuramente da tutte le autorità pubbliche, quindi dall'US, dall'ARPAT e così via. E poi il gestore fa dei controlli molto stringenti, abbiamo dei laboratori che funzionano a pieno regime e la nostra acqua rientra sempre nei parametri stabiliti per legge. In tutti questi anni non abbiamo avuto alcuna ordinanza in non potabilità dell'acqua, cosa che invece si verificava molto spesso in anni che i cittadini ricorderanno sicuramente. E questo invece non si verifica più. I fenomeni a cui lei faceva riferimento sono fenomeni molto diversi tra loro. Un conto è il taglio che è classificato in una maniera specifica. Ora io non so esattamente cosa sia successo in Versilia, ma lì la causa è stata poi ritrovata e il problema è stato risolto. Il discorso diverso è quello dell'amianto, dove se i cittadini vanno sul sito dell'autorità di ricca Toscana noteranno le analisi che vengono fatte a tutti i gestori e sono pochissime, si contano sulle dita della mano, i casi in Toscana in cui c'è la minima presenza anche di una sola fibra di amianto. Nella stragrande maggioranza dei casi non esiste alcuna rilevazione di alcuna fibra di amianto. Tenete presente che l'unica normativa esistente in giro per il mondo è quella americana che prevede una soglia di attenzione, non di pericolo, di attenzione, di 7 milioni di fibre presenti. Nel caso della Toscana in pochi casi arriviamo siano a 10.000 a 15.000 fibre. Alcuni cittadini lamentano il fatto che dai loro rubinetti esce acqua calcarea, con molto calcare. Questo perché? Che cosa succede? È normale? Alla fine comunque non fa male? Cosa c'è da dire a tal proposito? Le caratteristiche dell'acqua dipendono moltissimo dalle caratteristiche fisiche del luogo da cui la attingiamo. La nostra priorità in assoluto come gestore del servizio idrico è quella di fornire acqua adatta per il consumo umano e quindi deve rientrare all'interno dei precisi parametri di legge per quanto riguarda tutte le forme di inquinamento, la presenza di agenti chimici, la presenza di inquinamento batteriologico e così via. Il sapore dell'acqua o la presenza eccessiva in alcuni casi di calcari o di sosri di fosfati e così via, dal punto di vista della potabilità non comporta assolutamente nulla. Anzi, in alcuni casi si può anche dire che da dei contributi positivi. Noi spesso beviamo delle acque minerali che sono note per essere particolarmente dure o ricche di sali e di questo non ci lamentiamo. Il problema può essere in parte il sapore e in parte anche l'uso dell'acqua per usi diversi da quello potabile. In questo caso può dare dei problemi, però questo si può risolvere tranquillamente con degli impianti a casa. Non possiamo intervenire oltre a un certo livello, soprattutto per la rimozione del calcare, perché altrimenti forniremo dell'acqua che è completamente denaturata e questo sarebbe anche peggio. E poi la nostra priorità è quella della sicurezza e della salute dei cittadini. Spieghiamo brevemente come funziona un fontanello. L'impianto di depurazione, il sistema di depurazione dell'acqua che arriva al fontanello si trova proprio qui nei pressi dove nasce il fontanello o a monte? No, al fontanello arriva la stessa acqua che viene fornita nella rete idrica normale. Ciò che fa il fontanello, che peraltro è stato costruito interamente pezzo su pezzo dai nostri operai, noi non ci forniamo all'esterno, ciò che fa il fontanello è eliminare la presenza del cloro, che è quello che dà poi la maggior percezione di cattivo sapore dell'acqua, eliminare la presenza del cloro attraverso un sistema molto avanzato di filtri, consente l'eliminazione del cloro mantenendo nello stesso tempo la stessa qualità dell'acqua e soprattutto la stessa garantia di sicurezza dell'acqua. Quindi l'acqua che esce è acqua della stessa rete idrica, quindi già trattata, l'unica cosa è che il fontanello elimina il cloro pur mantenendone la sicurezza. Quindi possiamo dire che l'acqua che esce dal fontanello ha le stesse caratteristiche di quella che esce dai rubinetti delle case vicine? Sicuramente sì, al netto del cloro sì e questo ovviamente migliora la percezione del sapore. Peraltro i stessi cittadini possono fare anche a casa lo stesso, si può dire, lo stesso lavoro, costa un pochino più di fatica e così via. Per eliminare il cloro dall'acqua basta mettere una caraffa d'acqua all'interno del frigo per pochi minuti e il sapore del cloro sparisce. E infine consumare l'acqua del fontanello consente anche un risparmio economico? Assolutamente sì, come dicevo all'inizio, se noi consideriamo anche solo il fontanello di Pisanova e dovessimo rapportare le bottiglie consumate, i litri consumati al fontanello di Pisanova qua a Pisa e dovessimo calcolare l'analoga quantità di acque minerali, noi avremmo un risparmio solo per quel quartiere di 400 mila euro. Questo senza contare tutto il risparmio di bottiglie di plastica, milioni e milioni o decine di milioni addirittura di bottiglie di plastica che in tutto il territorio dei nostri 55 comuni non vengono più utilizzate. Insomma è tantissimo come risparmio per l'ambiente e per le tasche. Possiamo dire che ci troviamo tra virgolette dietro le quinte del fontanello, qui siamo nel locale tecnico appunto con tutti i filtri e vari passaggi. Ecco, ci puoi spiegare come funziona il sistema di filtraggio? È molto semplice, qui c'è l'arrivo dell'acqua normale del comune acquedotto, quello che arriva nelle case ogni giorno, subisce una prima filtrazione a 0,20 micron, poi a 0,5 micron, qui abbiamo una pompa che mantiene in circolo il sistema perché l'acqua non resti mai ferma all'interno delle tubazioni, dopodiché subisce un'ulteriore filtrazione e passa nella parte dove ci sono delle membrane a ultrafiltrazione. Il sistema oltretutto è dotato anche di una lampada a raggi ultravioletti e nel lato finale abbiamo un filtro che è un filtro assoluto dove praticamente qualsiasi tipo di impurità, qualsiasi cosa c'è nell'acqua viene eliminato. Dopodiché a questo punto passa agli erogatori dove praticamente l'utente premendo il pulsante all'esterno aziona un elettrovalvola e può prelevare gratuitamente l'acqua per l'uso che gli serve. Acqua buona, acqua delle nostre ricche falde, filtrata, quindi disponibile con alta qualità ma soprattutto disponibile nei quartieri dove i cittadini possono anche migliorare le abitudini quindi risparmiare spese che forse sono inutili e trovare nei fontanelli anche un punto di riferimento, anche un modo di vivere i quartieri. C'è un grande successo, non solo a Pisa, dovunque la società Acque ha realizzato questi fontanelli c'è una grande partecipazione. Come se la spiega? Perché i cittadini non se la bevono più, soprattutto le acque minerali, gli affari che ci stanno dietro un marketing che presenta un prodotto che apprezzi spesso i ragionevoli dovrebbero indurre tutti noi a cambiare qualche abitudine so che non è semplice, parlo anche di me stesso, ma insomma dobbiamo cambiare abitudini. Conferma un'attenzione costante del comune anche su quartieri più periferici l'iniziativa è indubbiamente importante anche per il fatto che riesce a portare dell'acqua di qualità sul quartiere garantando alle famiglie non solo un concreto risparmio economico ma soprattutto una riduzione sensibile sia dei rifiuti che degli sprechi perché tutto ciò equivarrà sicuramente a produrre meno plastica, meno consumo energetico e quindi meno inquinamento. Noi non possiamo, da parte del Consiglio territoriale di partecipazione numero due e che ringraziare l'amministrazione comunale per aver scelto questo quartiere quale localizzazione del secondo fontanello che viene realizzato sul comune di Pisa augurandoci quindi che sempre più famiglie possano, come dire, riuscire ad approvvigionarsi sempre di più alla rete idrica domestica. Una domanda non come presidente del CTP ma come cittadina consumi l'acqua del rubinetto oppure no? No, infatti è una cattiva abitudine e come ricordava prima il sindaco questo spingeranno tutti a cambiare le nostre abitudini che non potrà che far bene all'intera comunità. Come mai non utilizzi l'acqua del rubinetto? È un'abitudine che ho avuto di comprare l'acqua direttamente in bottiglia al supermercato e quindi anch'io sono una di quelle colpevoli che non utilizza ancora le fontanelle comunali. Grazie per la visione! Grazie per la visione!